Saluto a voi, sono sempre Giuliano Stracci, ormai molti mi conoscono, apicoltore del 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Allora, stasera, ora è sera per noi, vi parlerò della selezione, selezione e miglioramento genetico delle api. Allora, questa diciamo che è la mia passione principale che riguarda l'apicoltura. Ho trascorso veramente tanto, tanto tempo pensando alla selezione, quindi al miglioramento genetico delle api. Questo è iniziato nel 1984 come principiante, però poi nel 1998 iniziai proprio ad effettuare una selezione. E da allora a adesso, ora siamo nel 2023, non ho mai smesso di praticare la selezione e il miglioramento genetico delle api. Il miglioramento genetico e selezione delle api comprende tanti fattori, tantissimi fattori, perché comprendono dalla resistenza alle malattie, alla resistenza alla varroa, resistenza alle virosi, fino alla produttività, fino all'adattamento all'ambiente, comprende tantissimi fattori. Quindi per selezionare un qualche cosa di armonico nel regno delle api, bisogna prima di tutto conoscerle, conoscerle molto molto bene, conoscere l'ambiente, conoscere quali sono le difficoltà e i punti di forza, quali possono essere le difficoltà in relazione all'ambiente, ai parassiti, ai predatori, a tutto quello che riguarda la vita delle api, e quali sono i punti di forza delle stesse api. Perché poi alla fine, quando si va a selezionare qualche cosa di positivo, bisogna anche saper vedere la possibilità che quel regno di natura può offrire, prima di tutto per se stesso, per rimanere in vita, per rimanere vitale, per rimanere forte, e poi per dare un qualche cosa in cambio anche a noi che le alleviamo e che cerchiamo di farle stare bene. Quindi è un rapporto di un dare e un avere. Su questo sono totalmente in disaccordo con i vegani, che vedono tutte le forme di allevamento animale come uno schiavismo, o peggio ancora, non so, una mattanza. Ecco, in realtà l'allevamento delle api è necessario, è necessario anche ai vegani, perché senza le api sul territorio neanche i vegani mangerebbero. Purtroppo tutto questo è principalmente nelle mani, nel cuore e nella testa degli apicoltori, tutto questo andamento della vita planetaria. Non voglio dire che siano solo gli apicoltori a pensare al benessere del mondo, però in questo caso il fatto che allevino molte api fanno una grande differenza. Oggi ho parlato molto in generale del miglioramento genetico in relazione alla varroa, oggi mi focalizzerò di più in relazione alla produttività, alla vigoria della famiglia, queste cose qui. Non vi dico tante cose specifiche, perché l'argomento è vasto, lungo e complesso. Quindi richiede attenzione, richiede dedizione. Chi si dedica all'apicoltura e vuole fare anche una sua selezione di api regine, deve conoscere, prima di tutto, come vi ho detto, le api, ma anche certe tecniche, certe modalità di produzione e di fecondazione delle regine, cioè non è che le dovete fecondare voi, cioè come creare i nuclei di fecondazione adatti a fecondare le regine stesse. Quindi deve conoscere un sacco di cose e chi effettua miglioramento genetico. Prima di tutto anche la tecnica del traslarvo, della produzione di celle reali, che può essere fatta con varie tecniche, più o meno naturali, più o meno industriali. Sono tutte cose importanti, non ce n'è una che sia meno importante dell'altra, perché poi alla fine è l'applicazione che si fa di queste tecniche che fa la differenza, perché noi possiamo applicare una tecnica di produzione sul grande numero di regine e di celle reali, ma se questa tecnica è finalizzata ad ottenere delle caratteristiche che si armonizzano sempre di più con l'ambiente e con la salute delle api, allora è tutto lescito. Quindi di solito quelli che danno dei giudizi di sfruttamento dell'animale, in questo caso parliamo di api, poi di altri animali non ne voglio parlare affatto, perché non è mia competenza e perché su alcune cose non sono d'accordo anch'io, però chi di solito è molto critico riguardo allo sfruttamento delle api molto spesso non conosce proprio l'argomento, quindi apre bocca e gli dà fiato perché nella vita fa altro e quindi è molto facile dare consigli agli altri, dare consigli agli altri per il lavoro che devono fare loro, senza rischiare diciamo, è la cosa in cui si rischia meno e che viene più facile a farsi. Quindi tutto questo anche riguardo alla selezione della produttività dobbiamo pensare prima di tutto a selezionare la vigoria e il benessere delle api, perché se le api non sono vigorose e non stanno bene la produzione non ve la fanno. Ma non solo, ma non è soltanto questione di benessere e di vigore, è questione anche di metabolismo, la famiglia delle api può avere un metabolismo più o meno accelerato, una capacità di volo su un raggio di volo, quindi di ricerca delle fioriture, più o meno ampia. Tutto questo dipende da una serie di fattori, una serie, prima di tutto organici e genetici della regina stessa. Quindi quando si va a selezionare bisogna avere una visione ampia, io direi a 360 gradi, ma forse è più giusto dire sferica, dell'apicoltura e della vita delle api. Sferica anche perché? Perché da questo insetto finora è dipeso la fecondità del pianeta, del regno vegetale presente sul pianeta. Quindi bisogna avere una visione globale, di insieme, di tutti i fattori che possono concorrere nella vigoria, nella capacità di volo, nella resistenza alle patologie, alle malattie, ai parassiti, ai predatori. I predatori, la voce predatori, l'ho già ripetuto in altri video, è molto importante anche perché i calabroni, specialmente, in genere se si pensa ai calabroni, ai predatori si va a pensare all'orso. Sì, in certe zone, anche d'Italia, l'orso è un problema. Però, più in generale, il predatore più temibile che abbiamo sul nostro territorio è il calabrone. In se stesso, come individuo, non è neanche grande, però se noi, diciamo, sommiamo tutti i nidi di calabroni presenti sul territorio nazionale in estate, vedremo che sicuramente è molto, molto più importante di qualche orso che magari vive in qualche parco nazionale del nostro paese. Quindi è importante vedere come lavora la regina all'interno dell'arnia, come depone la sua covata, come lavorano le operaie che accompagnano questa regina, che vuoi o non vuoi lavorano in base, in parte, alla genetica della madre, perché comunque sia, è vero che ci sono anche i padri, però la madre è sicuramente la madre di tutti, mentre invece all'interno di una famiglia ci possono essere vari padri, anzi, ci sono sicuramente vari padri, perché la regina nella sua spermateca raccoglie lo sperma anche di 15 fuchi. quindi il carattere della famiglia dipende in gran parte dalla madre e dalla sua genetica e dai feromoni che la madre emette e che danno in vuoi o non vuoi un comando alla famiglia stessa, perché le api comunicano fra di loro con vari mezzi, uno dei quali sono i feromoni che emettono la regina stessa in base alla sua genetica e quindi la sua genetica che va a interferire sia sul suo comportamento come individuo regina sia sui feromoni che emette, perché tutte le molecole che poi sono prodotte, le proteine ad esempio, ma anche tutte le altre molecole che poi sono prodotte dall'organismo stesso di un individuo sono in gran parte determinate dalla sequenza genetica dei suoi cromosomi. Poi ci sono altri fattori che concorrono come l'alimentazione, l'ambiente e tutto il resto che possono interferire su questa fabbricazione di sostanze che vanno a costruire il corpo di un individuo. Però la base genetica è importantissima. e soprattutto è importante negli organismi in cui l'organismo stesso come individuo, non sto parlando adesso come alveare, ma come ape stessa, è poco dipendente dalla psicologia, ma è molto dipendente dalla genetica. Vi faccio un esempio. chi alleva cavalli da corsa a volte spesso può dire che, e questo lo so perché l'ho saputo da chi lo fa, che la genetica nel cavallo da corsa dice poco. Perché? Perché il cavallo è un animale piuttosto evoluto, più vicino all'uomo che all'insetto come psiche. e quindi come essendo vicino all'uomo può anche dire sì, io sono forte e bello però me ne frego di correre veloce e di spezzarmi il cuore a correre veloce perché tanto la sera mi mettono nella stalla e mangio lo stesso. Invece le api non sono così. Le api corrono più o meno in base prima di tutto alla loro genetica e poi anche dalle condizioni climatiche e ambientali e anche di fioriture che si trovano attorno. Quindi è una psicologia che a livello individuale non è sviluppata. La psicologia dell'ape è sviluppata a livello di organismo alveare. Ecco. Tutto questo va tenuto presente nel campo della selezione del miglioramento genetico. Quindi vi accenno già ora che ancora non è pronto non è finito ma a breve termine uscirà una nuova videoformazione nostra che riguarda la selezione del miglioramento genetico su tutti i vari aspetti che riguardano la vita delle api e quindi anche la nostra attività in relazione alle api stesse. E ora vi ricordo il link in descrizione se volete potete partecipare a una prima lezione gratuita non riguardo a questo perché ancora non è pronto questo corso ma ad altri due corsi che sono già pronti e poi se volete lo acquistate con l'opzione soddisfatti o rimborsati. E ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.